Sarà il tema dell'abitazione e del sostegno a chi non ce la fa più nemmeno a pagare il canone mensile del proprio appartamento, quello alla base di un progetto cui la Caritas sta iniziando a lavorare per il 2015? Spesso per i nostri accolti si presenta anche il problema abitativo perché causa di reddito assente oppure insufficiente e non riescono più a far fronte al pagamento del canone mensile per l'abitazione. E quindi il problema con il rischio di sfratto spesso viene in un certo senso attutito dai nostri interventi e quindi cercheremo di trovare delle soluzioni, dei validi aiuti per poter far fronte al problema dell'abitazione per le famiglie che si rivolgono da noi. Resta una grande assenza in città sul fronte dell'assistenza e dell'accoglienza, una casa in cui poter far stare persone senza un tetto, specie nei periodi di grande emergenza freddo. Sì, sarebbe davvero bello riuscire ad avere nella nostra città una casa di prima accoglienza con tutti i servizi adatti per la persona, quindi servizio doccia, mensa e posti letto per poter davvero accoglierli anche durante la notte, soprattutto nei periodi freddi segnati proprio da temperature basse e da neve. Ci sono persone, spesso sono girovaghi che ritrovandosi in questa città si fermano anche qui a dormire, a passare delle notti. Sempre più famiglie povere in provincia di Teramo, almeno 7000 gli assistiti dalla Caritas, un fenomeno questo su cui non basta soltanto fermarsi a riflettere, ma serve intervenire con misure adeguate. La nostra realtà provinciale non si distacca dal resto della penisola, però sicuramente è da tremare e da intervenire. Il problema della mancanza di lavoro sta causando purtroppo dei danni che a lungo andare si fanno sempre più sentire e hanno modo davvero di emergere. La Caritas non dico che è l'unico sentore che c'è sul territorio, ma sicuramente abbiamo modo davvero di accogliere tante persone. Tra i presidi di assistenza della Caritas, l'Emporio della Solidarietà di Via Tevere. Sicuramente la generosità e la solidarietà delle persone è il punto forza per riuscire a portare avanti il nostro supermercato solidale.